La grande guerra divide ancora i Balcani, celebrazioni contrapposte in Bosnia-Herzegovina nel centenario dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie a Sarajevo. Evento questo che scatenò lo scoppio della prima guerra mondiale. Le manifestazioni in corso da qualche giorno si concluderanno questa sera dando simbolicamente avvio a un secolo di pace dopo un secolo di guerre, come sostengono molti, ma non tutti. E' fantastico, anche se le guerre non mi piacciono, così come non mi piacciono questo genere di cose. Mi piacerebbe invece assistere a una commemorazione per cent'anni di pace. Sono solo contento che ci siano tanti turisti qui oggi. Non dobbiamo pensare che è colpa nostra quello che è accaduto, non dobbiamo sentirci in colpa per le guerre passate. Il clou della serata sarà il concerto della Filarmonica di Vienna alla presenza dei presidenti di Austria, Croazia, Montenegro e Macedonia. Assenti invece le autorità serbe, che in polemica con il taglio, a loro avviso, revisionista delle manifestazioni di Sarajevo, hanno organizzato un evento alternativo, dopo aver inaugurato ieri una statua in onore di Gavrilo Princip, l'autore dell'attentato a Sarajevo. Per i serbi un eroe e non un assassino. Per i serbi un'attentato a Sarajevo,